Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video della serie di Minecraft Signori, io sono Maullo941 e oggi un nuovo episodio in cui faremo sempre cose nuove Se volete segnere il primo video di particolar video vi ringrazio per il like e per i commenti presenti e per il supporto Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale ed eventualmente darmi i suggerimenti sulle cose da andare a fare in questa serie Signori, oggi per esempio ci concentreremo sulla zona degli incantesimi Signori, zona che dopo aver fatto il bellissimo mob spawner negli scorsi video Infatti come potete vedere ho già raggiunto il livello 30 ed è una cosa spettacolare Ci concentreremo sul completare quella zona di lì così da poter incantare tutta l'armatura Che se non sbaglio potremo fare in diamante Io non ricordo quanti diamantozzi abbiamo 20 diamantozzi, no, non potremo fare tutta l'armatura in diamante Però potrà già essere un buon punto di partenza Un buon punto di partenza, signori Creiamo un poco di legno per noi Che così possiamo fare le librerie senza troppi problemi Così, perfetto Oh signori, questa serie l'abbiamo spostata a un episodio a settimana Esce semplicemente il mercoledì Il mercoledì esce questa serie? Sì, il mercoledì Cazzo lo dico, il mercoledì Il giovedì esce questa serie Sì, ragazzo lo stanno Ok, esce il giovedì E però va bene Però va bene Io però ho un po' di confusione Allora, sì Ciò diciamo un po' di cose buttate così a destra e a sinistra Sì, diciamo che occorre fare un magazzino, signori Decisamente occorre fare un magazzino Anche perché qui abbiamo altri bambù che possiamo trasformare Trasformali tutti Questi fai così E fai così Diciamo che adesso il bambù Cioè, signori, in maniera aiosa In maniera aiosa Andiamo a ammazzare le mucche Purtroppo sì Purtroppo dobbiamo andare a sacrificare le mucche Che senza le mucche sacrificate Noi non possiamo Quindi sacrificiamo una botta di mucche Datemi una botta di pelli, signori E anche così possiamo ottenere una botta di cibo Che non sarebbe per niente male Che finora stiamo semplicemente rasentando la povertà più totale Quindi vediamo cosa riusciamo a fare con Queste Tutte queste mucche Mazzale male Ovviamente, signori, le avevo già fatte riprodurre prima Quindi, infatti, vedete i piccolini Che vanno anche loro saltando a destra e a sinistra Ma tranquilli che nessuna mucca sta subendo Cattiveria Quante? 16 16 sarebbero 16 libri Tipo No, 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 ancora poco Ancora poco, signori Sacrificiamo qualche altra mucca Al dio dei videogiochi Al dio dei videogiochi Vuole qualche altra mucca sacrificata Ho visto una mucca saltare fuori È impressione mia No Si era allontanata in maniera In maniera Furtiva Ma noi l'abbiamo recuperata E ammazzata male Ok Recuperiamo un po' dal giro di pelle Che avevamo No, lui è scappato Non è già l'avevo vista che non era scappato 30 pelli 30 pelli significano 30 libri Mi basta, no? Non lo so, signori Ma una volta che ce l'abbiamo le mucche Ammucchiamole Dai, è così Dai, così Dai Anche tu Anche tu Sacrificata Recuperiamo Tu, anche tu sacrificata Tu, voi volete vivere? No Mi dispiace Ok Loro tre Oramai signori Quelle grandi le facciamo fuori tutte Perfetto Signori Lasciamo il mondo ai piccoli Che scappano I piccoli se ne scappa Signori Avremo delle mucche libere Per il mondo Va bene Va bene Dettagli Dettagli Mangiamoci l'ultima patata Che c'era rimasta Da poterci mangiare Perfetto Andiamo a casa Cucciamo tutta questa carne Finalmente avremo un po' di carne Di cibo serio Signori Porca miseria Oh Vai così Che prima no Come direbbero quelli bravi Dai così Ok Finalmente avremo un po' Di carne seria Anche se già qua il 19 Ce l'avevamo Ok Prossimo step da fare Prossimo step da fare Dobbiamo andare a recuperare lo zucchero Sì lo zucchero Dobbiamo andare a recuperare La carta La carta tramite le canne da zucchero Dai così Dai così Dai così Trasformiamo tutte queste canne da zucchero In Carta 63 Facciamo così Tu qui no però Mannaggia a te Dai di pelli Non dei scradini Ma di pelli E abbiamo 15 libri 15 libri Ci fanno niente Ho 15 libri No mi sembra che non mi bastano 21 Vediamo quanti Riusciamo a farne 21 di lì Ok E non mi bastano nella vita Ok Così fai le librerie Sì Me ne fai 9 Ok 9 non mi bastano mai nella vita Però 9 Mi servono molte di più Molte di più Signori miei Quindi intanto continuiamo la trasformazione Generica Così Così Altri 8 8 ce li siamo portati a casa 8 Rimetti di qua Diventano altre 2 Altre 2 Altre 2 Sbagliato il tasto Mannaggia 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 Dai così Dai così E ne abbiamo 11 Andiamo a piazzare queste 11 Anche perché sta calando la notte Dai Veloci No è già calata la notte Dai 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 Ci andiamo di qua Che bella la nostra zona Signori Possiamo fare tutto il giro Dall'alto è bellissima Dall'alto è molto bella Dall'alto è molto bella Allora abbiamo detto Uno qui 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 E uno qui Ok Perfetto Già già prende forma Signore Già prende forma Andiamo a dormire velocemente Dopodiché Faremo un altro poco Di canne da zucchero Il sole è alto Signori Il sole è alto Un nuovo giorno Di lavoro Un nuovo giorno Di lavoro Copriamo le canne da zucchero Dai così 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 Non so quante me ne servono Signori Ma tanto le abbiamo messe In maniera aiosa Quindi le possiamo Aiosare Cosa ho appena detto Non lo so nemmeno io Però Però va bene Diciamoci Un ritorno lungo la costa Così se ce n'è qualcuna Che ci è scappata La recuperiamo al volo Ok Dai così Queste mi erano scappate Dai così Ok Sì ho fatto tutto il muro Di canne da zucchero Signori Dovremmo continuarlo Da quel lato Non lo so Forse potremmo aprire Un pochetto di là E lì fare l'oasi Delle tartarughe Potremmo anche fare Riprodurre le tartarughe Sì Potremmo fare tante cose Signori Stanno vedendo tante idee Tante idee Quando torni a giocare un gioco È così Ti partono Ti tornano le idee Praticamente costruttive Quelle belle Quelle belle Allora Possiamo fare altri dieci libri Così ne abbiamo dodici Potrebbe essere un problema Dodici Altri quattro Dieci Fai così Ok Fai così Fai così Vabbè Sì Fai Cosa cazzo Lo sto facendo Fai così E chi se ne frega Dai Ok Prendi queste Mettile così Fai così Fai così Altri quattro librerie sole Altre sole Quattro librerie Signori Mi sa che le nostre mucchine Ci hanno deluso un poco Mi sa che le nostre mucchine Ci hanno deluso un poco Perché altri quattro Mi sa che non ci bastano Uno, due, tre E quattro Vediamo quanto arriviamo Come livelli Stiamo a mettere una spada Arriviamo al livello trenta Ah no Ci arriviamo signori Arriviamo al livello trenta Ci arriviamo al livello trenta Ok Quindi forse bastano Sì 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 Bastano Bastano Va bene signori Però sinceramente Sinceramente Mi fa un po' cacare Che si veda questa cosa così Deciramente sì Quindi facciamo una cosa carina Faccio un breve taglio Mentre quelle mucche Decidono di crescere Ottengo le altre due librerie Poi facciamo Facciamo al volo Al volo Al volo Vi taglio Vi taglio la La rottura di scatole Della riproduzione mucche E cose varie Però assieme Potremmo iniziare a dare Una forma più carina A questo mondo signori Io non so quanto ferro Noi abbiamo Però lo consumiamo Signor Chi se ne frega Lo consumiamo il ferro Allora Come cazzo Si facevano le lanterne Me ne servono tre Uno, due e tre Se non ricordo male Le lanterne si facevano così Può essere Può essere Perfetto Signori Tre lanterne per noi Queste le rimetto di qua Andiamo a mettere Tre lanterne Sopra le librerie Poi Rapido taglio Ci vediamo Appena Aspetta Facciamo Uno Due E tre Così creiamo L'atmosfera carina E coccolosa Tutti che signori Allora Faccio un breve taglio Recupero tramite le mucche Quell'altro Quelle altre L'altra L'altra pelle Che mi servono Perché non ne ho più pelli No A meno che non ne ho qualcuna qua Ma non penso Non penso Vediamo Velocemente 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 No Bello così Mi sembra giusto Mi sembra giusto La povertà più totale Perfetto signori Rapido taglio Recuperiamo Quegli ultimi pezzi Quelle ultime Due librerie Che ci mancano di là Signori Ok signori Altre due librerie Create Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta È stato Tedioso Rottura di scatole Ma ne mettiamo una qui E una qui signori Abbiamo la nostra zona Delle librerie Bella Pronta Per incantare Tutto Il mondo Il mondo Ok dai Al trentesimo Ci arriviamo Certo per ora Qui non capisco perché Però voglio fare Scusatemi Ma se io prendo Della bislazio Al volo Dovrei averceli Della bislazio Dovremmo anche mettere Una cassa lì Signori Così Da poter mettere Della bislazio Lì vicino E non dover Andare E fare Vai e viene Ogni volta Se io prendo Questi L'abislazio Torno qui Corro Veloce come il vento Corri 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 Ok No Corri troppo Questo li metti qua Aspetto di fuoco Contro il colpo 1 E contro il colpo 2 Vabbè Questi però Fanno un po' Caccare Efficienza 4 Efficienza 2 Indistruttibilità Ok Diciamo che noi Fondamentalmente Per il momento Servirebbe un'armatura Che degna di questo nome E anche un piccone Con fortuna Signori Potremmo andare Alla ricerca Di nuovi diamanti Come se non ci fossero domani Detto questo Signori Io vi ringrazio Per aver guardato Questo video Vi ringrazio Per i like Per i commenti Per il supporto La nostra zona Delle librerie È pronta E signori Andremo avanti Passo dopo passo Sempre per nuove avventure Bella raga Ciao